Ci sono anche due culle nelle tre ambulanze della Croce Gialla partite da Lanciano per andare a soccorrere due neonati di 3 e 6 mesi e una bambina di 8 anni, profughi ucraini. Sono questi i piccoli pazienti che i volontari raggiungono nella città di Zaoni, nel nord dell'Ungheria e confini con l'Ucraina, per poi portarli al sicuro all'ospedale San Raffaele di Roma, dove potranno essere curati lontani dai bombardamenti della guerra. È una missione umanitaria, quella affidata alla Cooperativa Sociale Lancianese, la più grande del settore in Abruzzo, che in questo viaggio della speranza agisce con il contributo di donazioni di privati e il supporto del Comitato Magniunite di Padova, un'organizzazione no profit nata durante un'altra emergenza, la pandemia da Covid-19. L'Avvocato Angela Paolucci, responsabile del Comitato Magniunite per Francavilla al Mare, è tra i volontari di questo convoglio, che nel viaggio di andata porta medicinali e altri presidi medici. A Zaoni quindi scaricheremo tutto questo materiale e prenderemo in carico questi bambini che sono piccolissimi. Noi parliamo di due bambini che non raggiungono l'anno di vita. Parliamo di una bambina che invece è un po' più grandicella ma con gravi patologie. Questi bambini hanno l'urgenza di essere curati, quindi tolti da un determinato luogo che è assolutamente pericoloso, e portati in un altro luogo che sarà il San Raffaele di Roma, che li prenderà in carico per dare loro le cure specifiche e appropriate per i loro casi. Lì le strutture sono al collasso, nel senso che si immagini tutta la popolazione ucraina più quella del luogo, per cui le strutture sanitarie sono assolutamente al collasso. I posti letto scarseggiano, li mettono un po' dappertutto, e soprattutto hanno bisogno di cure appropriate e specifiche, che il San Raffaele assolutamente può dare. Prima tappa del gruppo lancianese è Padova, nella sede nazionale dell'Associazione, per far salire a bordo dei mezzi di soccorso due medici anestesisti e animatori, che affiancheranno la dottoressa Micaela Capone della Asle di Chieti. La missione potrà realizzarsi grazie alla preziosa sensibilità del presidente di Croce Gialla, Nicola Sciulli, dicono in Veneto, che ha raccolto senza esitazione l'appello lanciato dal Comitato Magni Unite e dal Consolato Ucraino delle Tre Venezie, nell'ambito dei progetti per i rifugiati. Per noi è un evento importante, sicuramente un motivo di orgoglio, ma poi alla fine i protagonisti principali saranno i bambini, la nostra missione sarà quella di portarli in un ambiente protetto e garantirgli il proseguo delle cure. Grazie a tutti!